Arechita Nero, Sermazzotti, Cosa della Vita! Siamo arrivati, Mazzò! Sono male, Sì, da azione! Siamo arrivati, Mazzò! In un istante e in un ricordo A capire chi ne vuole Già come te Sono pensato a te Sì bravo e vostro sono umani condizioni abbiamo avuto l'impressione bene o se non è bene oppure no può dipendere le persone dalle nostre cose che ho già come fieri sto pensando a te come siamo in un tempo non sei pensato mai dove siamo stati cosa siamo un po' confinanti di cuore solo che ognuno sta dietro gli staccati che ognuno sta sto pensando sto pensando come on hanno preso un po' confinanti è già stata una fatica arrivare fino a qui sono umani condizioni oh yeah oh yeah con le mani io ripetere sì perché sono un po' questo è un po' con le mani io ripetere sono pazzi della vita ma la vita ma la vita dove 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 che scelta quando è fatica io mi Signore dove, poi dove, poi dove, già come feri Sto pensando ancora in fronte Questa notte che forza venga accanto a me Cerco di affrontarla, afferrata E se avendo la curva nel cuore sfondato un po' Forna provocava, anche adesso che Che le sto pensando Sto pensando Sto pensando Sto pensando Invece Grazie!